La sospensione dal servizio dell'insegnante palermitana, sanzionata per il video prodotto dai suoi studenti, dovrebbe proseguire fino alla fine di questa settimana, a meno che nel frattempo il ministro Busetti non prenda qualche decisione. Per la verità le regole del procedimento disciplinare non consentirebbero al ministro di revocare una sanzione e questo il ministro Busetti lo ha già sottolineato in almeno un paio di occasioni. In aperto contrasto invece la sortita del sottosegretario pentastellato Salvatore Giuliano che ha dichiarato che farà di tutto per far cancellare il provvedimento. Persino il ministro Salvini ha annunciato che nei prossimi giorni si recherà a Palermo per incontrare la professoressa dell'aria e si è augurato al tempo stesso che l'insegnante possa rientrare al più presto in classe. Nessuno però ha ancora spiegato in che modo si possa ottenere questo risultato. Nelle ultime ore si è diffusa tuttavia una notizia particolarmente importante. Il ministro Busetti potrebbe non cancellare ma sospendere il provvedimento in attesa di conoscere l'esito del supplemento di indagine che lui stesso ha disposto. Intanto le manifestazioni di solidarietà nei confronti della docente non si fermano, proseguono. La petizione promossa dall'USB ha ormai raccolto 180.000 firme mentre in tutta Italia si stanno organizzando sit-in e flash mob. Domani martedì per esempio alle ore 11 ci saranno centinaia di insegnanti che interromperanno per qualche minuto alla propria lezione per leggere in classe il testo degli articoli 21 e 33 della Costituzione. L'iniziativa è partita dal liceo Ancomarzio di Ostia ma si è già estesa a molte scuole di tutta Italia. Mercoledì 22 alle ore 16 davanti alla sede del Ministero dell'Istruzione a Roma manifestazione di protesta di Cobas, Unicobas, Anief e di molte associazioni professionali e non dalla LIP Scuola fino all'Associazione Nazionale per la Scuola della Repubblica. Il clima come si vede è molto caldo, se volete inviateci documenti o fotografie o video che dimostrino anche la vostra partecipazione ad iniziative di questo genere noi le pubblicheremo nel nostro sito, seguiteci ovviamente anche su questo canale Grazie a tutti.